Il primo abbraccio per la madre, quali sono le emozioni stasera? Le emozioni sono tantissime, scusate l'emozione perché sono stanchissimo, non avrei mai immaginato questo grande successo, questi numeri, quindi aggrigendo a risposto bene, aggrigendo a fiducia in me, aggrigendo penso che voglia cambiare definitivamente e allontanarsi un po' dalla vecchia politica e sperare in qualcosa di diverso, io sono quello e poi secondo me una grande mia forza è quella di camminare squadra, di fare una squadra, di lavorare squadra. Il trend, naturalmente, ormai si è capito, mancano circa alle 21.30, circa 8.000 schede ancora da scrutinare, ma il trend è quello, Miciche, Firetto, Zambuto, Segue Catalano e tutti gli altri candidati, si andrà sicuramente al ballottaggio, il suo messaggio aggrigentino a partire da questa sera che vi rivedrete fra 15 giorni? Sì, il trend è quello, ormai la mia percentuale si è stabilizzata tra il 37 e il 37.5, massimo 38 al secondo le varie sezioni. Cosa dire aggrigenti aggrigenti? Dire soltanto di tenere duro, di avere sempre fiducia in me, perché sono convinto che se dovesse vincere a ballottaggio non deluderò nessuno di quelli che mi hanno votato.